Stiamo lavorando per garantire due servizi fondamentali per tante famiglie compatibilmente con il piano di riequilibrio. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e con l'anno scolastico ormai avviato, il sindaco di Andrea Nicola Giorgino fa il punto sullo stato dei servizi legati alla pubblica istruzione, la mensa scolastica sia per le scuole dell'infanzia che per quelle primarie e l'assistenza specialistica che riguarda circa 250 bambini e ragazzi della città. Entrambi scaduti il 30 giugno scorso, i nuovi bandi relativi a questi due servizi non sono mai partiti nonostante fossero stati approntati dagli uffici della pubblica istruzione già nel mese di giugno, causa assenza di un visto di via libera finanziario. Una situazione a dir poco drammatica che rischia di avere pesanti ricadute per moltissime famiglie andriesi, ma il primo cittadino assicura che qualcosa si sta muovendo. Per quanto riguarda l'assistenza scolastica specialistica la dirigente ha pubblicato un bando che è fermo dal settore finanziario perché per le note vicende giustamente prima di dare un visto contabile si voleva verificare la situazione così come produrre il piano di riequilibrio. Per la mensa scolastica è arrivata l'attenzione mia il giorno 4 luglio il bando e siccome c'è il piano di riequilibrio, o perlomeno si discuteva già di piano di riequilibrio, la situazione è stata messa in stand by quindi sospesa, si è interloquito con gli uffici, ora lavoreremo sempre perché si tratta, come ho detto in altre occasioni, di servizio a domanda individuale, quindi occorre andare in giunta e l'adesione al piano di riequilibrio ci consente di modificare le tariffe. Dopodiché dobbiamo verificare la necessità di porrinessere gli atti al di là della procedura del bando di gara che ha una durata pluriennale, che si possono porrinessere in modo da garantire il servizio di mensa scolastica che voglio dirlo a tutti, non è mai iniziato prima del mese di ottobre, cioè prima del 15-20 ottobre, quindi lavoreremo in questi giorni, in queste settimane per cercare appunto di assicurare questo servizio così come abbiamo fatto per il trasporto scolastico per i diversamente abili che già dopodomani il dirigente effettuerà e metterà la determina per garantire quel servizio. Buone notizie anche sul fronte della piscina comunale, dopo che anche in questo caso i ritardi nella stesura del nuovo bando relativo alla concessione, l'ultima convenzione era scaduta nel dicembre 2016, aveva fatto temere il peggio di fronte al rischio di una prolungata chiusura dell'impianto di Via delle Querce, ma anche in questo caso il sindaco assicura il massimo impegno da parte degli uffici comunali per garantire quanto prima la ripresa del servizio. Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno in cui è stato dato un indirizzo puntuale. So che gli uffici attraverso l'assessore stanno lavorando alacremente per cercare di porre in essere gli atti, nel frattempo in giunta sono state approvate le tariffe sulla base della delibera di approvazione in Consiglio Comunale del bando relativo alla concessione senza articolo 42, quindi poi gli uffici provvederanno a fare gli atti per consentire l'apertura della piscina comunale in modo tale da dare continuità all'attività e salvo poi verificare l'esito della gara e quindi quale sarà il soggetto che risulterà chiaramente aggiudicatario del servizio di concessione, tenendo conto che dalla piscina comunale in relazione alle vicende dell'ente non c'è un esborso che l'ente deve effettuare, ma c'è più che altro un'entrata che l'ente deve ricevere.